Pensarla con l'intervento dei genitori all'interno dell'attività che possono hanno potuto portare le loro competenze specifiche da integrare alle competenze più educative del nostro operatore è stato sicuramente un punto di forza molto interessante e anche ritagliare uno spazio di smart working nelle vicinanze all'interno del luogo dove si svolgevano le attività è stato interessante, è stata una novità da ripetere. Per i bambini fare un lavoro legato al giardinaggio, all'orticoltura in cui si sperimentano in una manualità diversa da quella che sperimentano di solito, sicuramente sana, sicuramente molto genuina, concreta e in cui vedono svilupparsi un prodotto completamente fatto da loro e è sicuramente un punto di forza, un'attività interessante, un'esperienza di crescita per loro. Un'attività conciliativa così stretta è molto interessante, conciliativa per la famiglia che mette insieme e integra le necessità lavorative dei genitori con le necessità di gestione dei figli, una gestione sicuramente di qualità, non solo un'occupazione del tempo. Molto integrati questi due aspetti, questa è una strategia sicuramente innovativa e sicuramente molto efficace per la gestione del tempo, per la gestione degli spazi e per il ruolo dei genitori all'interno delle attività animative dei figli e questa è una cosa che è la prima volta che facciamo.